Alan vedeva quello che doveva essere il fiume Stige poco più in là, alla sua sinistra. Era un torrente in piena su cui galleggiavano blocchi di ghiaccio. Nessuna persona sana di mente avrebbe provato ad attraversarlo a nuoto. Sentendosi in trappola, cominciò a fare avanti e indietro nonostante zoppicasse. Un'occhiata veloce all'orizzonte le confermò che non c'era anima viva in quella landa desolata. Così inizia Goddes.